siamo in live dallo show mini 9 t mamma mia che giornata ragazzi che giornata piccola live in cui risponderò alle vostre domande parliamo di un tema abbastanza importante quello delle assicurazioni per i droni aspettiamo che entri qualcuno un saluto anche dal dj mavic 2 pro ciao carlo un bel like ragazzi per questa live per questo argomento allora perdonatemi il il casino il disordine si ho entrato il telescopio lì sopra c'è tutta la roba a tutti i droni c'è anche il film imi drone l'fpv gagors andrò in ferie tra un po di giorni e quindi devo portarvi un po di roba presso per farvi dei video ciao luca ciao chris ciao ms ristrutturazioni manuel dart mario tutti quanti insomma ciao ragazzi ciao avete mangiato già io ho appena ordinato quindi dovrebbe arrivarmi una bella grigliata mista ciao max ciao fabrizio allora ragazzi una domanda che mi facendo davvero molto spesso me like ragazzi riguarda l'assicurazione obbligatoria sui droni mi chiedete sempre se ora è obbligatorio assicurare il drone per volare oppure no vabbè tu guarda lo stesso quack 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 lascia un like e nulla come si sente ragazzi come si vede sono dal minore t e addirittura semplicemente mi informo caneda comunque dicevo me lo chiedete spessissimo in ogni video la risposta è che no non è obbligatoria l'assicurazione per i droni almeno al momento poi fra tre quattro mesi un anno due anni tre anni si vedrà ma per ora non è obbligatoria l'assicurazione per i droni potete volare dove volete bugia non potete mangiare volete potete volare in zone isolate lontano da altre persone e da centri abitati quindi in zone isolate potete volare tranquillamente entro i soliti 200 metri di distanza e 70 metri di altezza ma l'assicurazione non è obbligatoria al momento per fini obbistici ottimo mf allora ma per 30 euro perché perché rischiare allora sia bettussi pasquale ma tanti no qual è il problema il problema è che ci sono vari siti non solo uno io ne conosco tre che gridano al lupo al lupo cioè assicurazione obbligatoria da dallo scorso anno tipo da novembre dicembre urlano assicurazione obbligatoria costantemente imminente e poi ovviamente l'assicurazione obbligatoria viene sempre più rimandata e quindi questo mi porta a pensare che ci siano dei siti ma ci sono anche degli youtuber che sponsorizzano alcune assicurazioni che probabilmente lo fanno un po per un ritorno economico penso che ci girino dietro un bel po di soldini detto molto semplicemente Quindi al dio io dico quello che faccio che faccio io che farò io io non sono assicurato quando sarà obbligatoria l'assicurazione mi informerò da qualche assicurazione vera non queste economiche che praticamente non ti coprono praticamente nulla E vedremo che assicurazione fare e vi consiglierò quale secondo me è quella più affidabile Ciao ragazzi Non facciamo nomi di assicurazione ovviamente per non fare pubblicità Allora perché queste questi siti questi youtuber sponsorizzano così tanto queste assicurazioni Nonostante non siano obbligatorie lo fanno vabbè forse per un ritorno economico io non lo so è solo una mia supposizione e sicuramente arriveranno tanti dislike per questa per questa cosa lo fanno anche perché sicuramente una volta che le assicurazioni diventeranno obbligatorie dovrebbero diventare obbligatorie entro il 2022 se non mi sbaglio Potrebbero anche rimandare sicuramente ci sarà molta concorrenza e quindi capite bene che chi ora le sta dando come assicurazioni avrà tanta concorrenza più avanti E quindi questi sono un po i motivi vi dico la verità io ho provato a Sottoscrivermi a un'assicurazione Non posso dire il nome ovviamente per non fare pubblicità E' arrivato alla schermata finale di pagamento però mi sono trovato con la sorpresa che questa sicurazione voleva c'è mi imponeva l'abbonamento obbligatorio annuale quindi ogni anno mi scalavano obbligatoriamente dei soldi e voi capite bene che Aderire cioè fare una cosa è facilissimo bastano due click poi disdire è difficilissimo lettere letterine pack eccetera eccetera insomma quindi Pensateci bene se per voi non è obbligatorio fare l'assicurazione Attendete che sia obbligatorio a farlo e volate in sicurezza Ok vediamo cosa avete scritto un bel like ragazzi Ciao renato ciao e ma ciao max allora masco x ciao mi chiede possa parte una domanda su due giorni venendo un consiglio dell'esperto dimmi Ciao giovanni il mio assicuratore mi ha confermato che fino a quando vuole per uso obbligatorio sono coperto da rc famiglia è già questa è Un'assicurazione abbastanza seria c'è anche l'assicurazione per il capo famiglia che copre anche I droni si è bloccato ragazzi ci siete Mi sentite allora semplicemente ho tolto i tasti fisici c'è i tasti virtuali dal Dal minovetti quindi ho fatto lo slide col dito e mi ha chiuso la live Allora vediamo Il telescopio per quando mandi il drone sulla strato è ovvio di sapere che quando mando il drone a a 5 km di distanza non lo vedo più quindi Utilizzo il telescopio per vederlo Ho trovato su banggood show me fini a 3 e ab santino con un cupone a 220 euro al momento la b santino viene 213 dicevro con il mio coupon se vuoi info scrivimi nella mail che trovi nelle info del canale Allora allo stato attuale la b santino a 213 dicevolo secondo me è il drone da preferire però la 3 è sempre un ottimo drone però a una cam inferiore Sì carlo il fini a 3 è lì in mezzo e ci farò i video nei prossimi giorni No puoi avere anche l'assicurazione senza avere il patentino però ragazzi capite bene una cosa se voi fate Assicurazioni da 20 euro da 30 euro Capite bene che non è che possono coprirvi chissà cosa ci sono delle clausole leggete le bene cosa coprono Perchè tante cose le assicurazioni super economiche ovviamente non le coprono quindi pensateci bene Sì vabbè fatto bene tecno dipende sempre dalla Dalla motivazione da dove voli da come vuole ovviamente Io parlo per l'utilizzo che faccio io del drone sempre in campagna o sul mare al massimo ferisco qualche pesce E lo so masco se vuole un radiocomando un po più serio bella 3 buona radio comando però si si va su x8 su doni perco più costosi E' fatto bene pasquale ragazzi un bel like dai che siamo una quarantina nulla quindi A me non dà fastidio tanto la questione Assicurazione sino cioè alla fine se uno vuole fare l'assicurazione magari si copre quindi E' anche un bene sotto certi aspetti però a me dà fastidio che vengano date notizie false o mezze notizie in cui Si fa quasi terrorismo dicendo no è ora obbligatore L'assicurazione dovete farla per forza altrimenti rischiate cioè dite che non è obbligatoria e se uno vuole farla la fa per tutelarsi però non dite che è obbligatoria Tra pochi giorni lo dito dite da un anno e mezzo e non è mai così e questa me fa arrabbiare ragazzi mi fa mi fa arrabbiare Si è bloccato Sì sotto certi aspetti il mi drone è superiore Provare caricarle ragazzi mi vedete mi sentite Ok Vi dico una cosa Oggi Su un sito di droni Ho letto Un articolo Uscito ieri Che diceva Fai l'assicurazione perché tanto tra poco sarà obbligatoria Falla ora e ti toglie il pensiero Cioè a me queste cose Mi fanno venire davvero il nervoso ragazzi Mi fanno venire i cinque minuti Diciamo Enrico Il tempo che arriva Il fattorino a portarmi il cibo Purtroppo Stefania non c'è perché sta da un parente che non sta molto bene No meglio non fare nomi Meglio non fare nomi Electronics Stefano Perché poi iniziano a lamentarsi eccetera eccetera Io ho detto la mia Se voi volete fare l'assicurazione per stare più tranquilli Fatela Magari non queste super economiche Ma vedete qualche buona assicurazione magari Quelle serie insomma Perché vi coprono in In numerose problematiche Guarda la cosa migliore sarebbe volare sempre in sicurezza Come dico io cercate di volare sempre in zone isolate Cioè se poi voi volate in città In centri urbani Anche se avete l'assicurazione Fate cadere il drone E ammazzate una persona Non pensate che l'assicurazione a 30 euro Vi salvi la pelle Sì ovviamente C'è tanto business dietro Ma io lo vedo da alcuni youtuber Che sponsorizzano alcune assicurazioni Già da come lo dicono Da come ne parlano Ci sono sempre i pro E i contro Come in ogni cosa Io aspetto che Siano obbligatorie Così c'è un po' di concorrenza Anche tra assicurazioni E si può valutare l'assicurazione migliore Per questo Per questo mondo Grazie Grazie mille masco Oh Grazie quacca Non so se prenderlo Come un complimento Comunque grazie Ciao Gigi Allora E' sempre rischioso Volare nei parchi Cerca di non volare Vicino ad altre persone Anche se hai l'assicurazione E voli su persone Fai male a persone Sono casini Comunque Sia che tu non abbia l'assicurazione Sia che tu ce l'abbia Cioè Quindi cercate sempre di volare Dove non c'è nessuno E dove non ci sono magari macchine Dove può cadere il drone Può fare danni Ora sai una cosa nuova Masco Allora potresti farlo volare Carlo Magari non farlo alzare troppo Eh si Gigi Grazie Giovanni No ma ce n'è qualcuno serio Dai C'è quello di Parliamo di videogiochi Che è un bravo ragazzo E nulla Parlando di cose serie Ragazzi Cosa avete mangiato oggi Cosa ne pensi Alla fine del film No secondo me Il film mi sta Mi sta piacendo Tanto Ho un difetto anche io Sul film x8 Ragazzi Vediamo se indovinate Qual è Un bel like Quindi spero di avervi fatto capire Il mio messaggio Sulle assicurazioni Va bene farle Però non mi piace Che alcuni siti Alcuni Che propongono Assicurazioni Insistano Martellino Così tanto Sì ho capito Se la voglio fare La faccio Ma non devi Obbligarmi Ogni giorno Con articoli Con video In cui Mi dici di farla Cioè Dipende dal Dall'uso Che ne faccio Del drone Per ora Non si ha Sì IMF Lo so Ma per ora Non c'è una data Per l'entrata in vigore Può essere fino al 2022 Come va la luce del pc Ci ho fatto la pipì sopra E non funziona più L'ho buttata La volevo usare Sull'albero di Natale Ma no Adoro Tranquillo Solitamente I I reati Del Del volo con un drone Sono perseguibili Quando si viene Colti sul fatto In flagranza di reato No? Quindi se Voi state volando Sul colosseo E arrivano a pattuglia Ecco Lì sono Sono mazzi Invece Se postate un video È già più difficile Perché Serve un'indagine Bisogna capire Se Chi ha realizzato il video Quando l'ha realizzato Come l'ha realizzato Quindi Io Non conosco Praticamente Nessuno Che da un video Ha preso una denuncia Solo un tale Che ha volato Su una riserva naturale Protetta Ma quello È stato proprio Proprio stupido Cioè Voi cercate ovviamente Di nuvolare Soprare Pericolose Protette Colosseo Duomo Eccetera Eccetera Se per ora Sì Gigi Esatto Allora Aggiornamento X8 Da installare Installalo Ho letto anche io Problemi di radiocomandi Che non si accendono più Io Come sempre Ho aggiornato Radio comando carico Drone carico Micro sd Formattata Nessun problema E come mai Tanti altri Sul mio gruppo Drone tecnologia Sì ovviamente Ovviamente se volate Sull'area 51 Con il drone Mettete il video online È ovvio che vi vengono a trovare Gli uomini neri a casa Cioè volevo dire Ho paura di chi ho alle mie spalle Ora Magari esce qualcuno dalla porta Allora Ho ordinato una grigliata mista 13 euro Dovrebbe arrivarmi a casa 600 grammi di carne Il prezzo più basso È stato 340 euro Ora si trova 380 euro Il film X8 Vabbè Ovviamente Ogni paese è diverso FPV Cioè L'Italia è il paese Con 10.000 edge Che nessuno si preoccupa Di far rispettare Quindi Già questo Sì Le assicurazioni Capofamiglia Sono ottime Perché coprono anche La questione droni No Qui è buona Metterò la storia Su Instagram Della grigliata mista Ragazzi Poi se ci siete Su Instagram Guardate la storia Instagram Addicts2games Lo stesso nome Se avete qualche domanda Ragazzi Fatela pure Quindi voi Non preoccupa Se non avete L'assicurazione Volate tranquilli Basta che volate In zone libere Da persone Non volate Sulla spiaggia A mezzogiorno Perché Pericolose Non si può Ciao Frank Non ce l'ho più Il si fly Mi dispiace Buonasera Porta lettere Salsiccia Su barbecue E insalata Beh beh Non male Non male Sì Una grande ansia Adoro Giove Sì Gli altri pianeti Devo vederli Perché Ora sono in città Quindi Con l'inquinamento Che c'è in città Non è che si vede Chissà cosa E nulla Quindi L'X9 Devo fare La seconda parte Della recensione Questo mese Allora Io Come memoria Per i droni Memorie Uso una Sandisk 64 GB Mi trovo Molto bene Non ha mai Problemi di lettura Vediamo Se riesco A tirarla fuori Se metterà fuoco Soprattutto È una Sandisk Extreme Pro Da 64 GB Fatemi girare Eccola qui Perdonate le unghie Un po' nero Col drone No Cioè Bisogna sempre volare Con la testa Sì Sì Io Questa È la migliore Che ho mai Utilizzato Sui droni Ottima Mi ci trovo Molto bene Che cosa Block Chris Che è successo Un bel like Ragazzi Arriviamo a 30 Bloccato Provate a ricaricare No 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 Se non è Area privata Non rischi Niente Giovanni Vabbè Anche Samsung Va bene Basta che non sono Quei marchi Si dice Marchi O le marche Un po' Sconosciute Cioè Le microSD Prendetele buone Altrimenti rischiate Che Perdete i file Ma no Ottavio No Comunque L'assicurazione Sarà Unica Quindi voi Fate sta Assicurazione E vale per tutti i droni Non dovete farla Per ogni drone Eh lo so Sono tutti A pranzo Anzi a cena Perché pranzo No FPP Lo sto usando Compralo Da Gearbest Che costa poco No Allora Questi droni Ragazzi Questi Non vanno Modificati Questi sono droni Cioè Sono sistemi Chiuse Un po' Come i telefoni Della apple Questi vanno presi Per quello che sono Non vanno Modificati Anche le eliche I piedini Non va montato Niente A parte i filtri Cercate di modificarli Il meno possibile Se poi avete Droni racing Autocostruiti È un altro discorso Quelli potete Personalizzarli Come volete Perché potete Configurarli Al pc Invece questi Io vedo Tante persone Faccio l'esempio Dell'X8 No Che montano Eliche In carbonio Oppure eliche Del mavic Che vanno Però Non sono buone Per il X8 Montano dei piedini Che vanno A coprire Le antenne Del drone Cioè Ragazzi State sempre attenti Quando fate Le modifiche Cercate di comprare Solo accessori Certificati Dalla Casa produttrice Del drone Cosa Pesi del Gimbal Che va Con la camera Del mi drone Ah si C'ero anche io È ottimo È ottimo Anche solo Lo uso poco Perché da quando Ho il Il DJI Osmo Action Non l'action Il pocket Quello piccolino È fantastico Michi guarda Quando saranno Obbligatori Informati un po' Tra le varie Assicurazioni Anche quelle Generiche Vedrai che trovi Qualcosa a buon prezzo Ma no Marco Secondo me È troppo estrema Come cosa Buonasera Tarus E vabbè Quanto vuoi Che vada Doro È tantissimo 500 metri Di altezza Cioè Ci vorranno Già Gli ultraleggeri A quell'altezza Cioè Ragazzi Non volate mai Troppo alto Con i droni È pericoloso Davvero Eh sì GG È un po' Costoso Vabbè Quando sarà Obbligatoria Se non la fai Guarda Nessun poliziotto Se tu stai volando In campagna Sul mare Ti viene a fermare Cioè A me non è mai successo Migliaia di ore di volo Devi fare proprio cose Un po' Al limite Per farti fermare Se ti fermano E sei senza assicurazione Possono Sequestrarti il drone E ti moltano Ma non ora Quando sarà Obbligatorio Allora Se voi avete Un drone racing Racer Sappiate già Che è illegale A prescindere Perché in Italia Volare in FPV Con gli occhiali Senza guardare Il drone a vista Senza occhiali Non questi Gli FPV Gagos È illegale Quindi in Italia Per usare un drone racing Dovresti controllare Il drone a vista E un amico Sta con gli occhiali Altrimenti È illegale Quindi già Utilizzare un drone racing In Italia È illegale Però Quanta gente È stata fermata E multata Perché usa Un drone racing Con gli occhiali Ciao Brick Mi raccomando Posta qualche bella foto Del Mavic Air Sì Carlo Io lo devo riprovare A giorni La 3 Secondo me Sta migliorando Molto Ovviamente Non volate Dentro Alle case Delle persone A fare le foto Dalle finestre Oh Ciao Romania Ciao Adrian Ciao Ciao ragazzi È nulla amici Dai È stato divertente Faccio più spesso Live così Io vado ad aspettare Tra poco Dovrebbe arrivarmi La mia grigliata mista Mi posterò la foto Su Instagram Sì sì In luoghi privati Potete volare Cioè sì Fino a quel punto Ok ragazzi È nulla Io vado a mangiare Noi ci vediamo Alla prossima Ciao belli Vi voglio bene Ciao ragazzi Entrate su Telegram E sul gruppo Facebook E su Instagram Ciao belli